Erano stati arrestati anche Giulio Inaudi e Pavese, persone che mio padre conosceva poco o conosceva soltanto di nome, si sentiva però anche lui, come mia madre, lusingato che Alberto fosse tra loro perché trovandolo mescolato a quel gruppo di cui sapeva che facevano una rivista chiamata La Cultura gli sembrava che Alberto improvvisamente fosse entrato a far parte di una società più degna L'ha messo dentro con quelli della cultura, lui che legge soltanto le grandi firme, diceva mio padre Doveva dare l'esame di biologia comparata, adesso non lo darà mai più, non si laurea più, diceva mia madre nella notte Poi Alberto, Vittorio e gli altri furono mandati a Roma, ammanettati con la tradotta Li portarono nelle carceri di Regina Celi Mia madre aveva ricominciato ad andare in questura dal Finucci e dal Lutri Ma il Finucci e il Lutri dicevano che ormai la cosa era passata alla questura di Roma e che loro non sapevano nulla Adriano aveva saputo da quel suo informatore che tutte le telefonate tra Alberto e Vittorio erano state registrate una per una Vittorio e Alberto infatti si telefonavano di continuo nei rari intervalli che non erano insieme a spasso sul corso Quelle telefonate così stupide, disse mia madre, registrarle una per una Mia madre non sapeva cosa si dicessero in quelle telefonate perché Alberto quando era al telefono parlava sussurrando Tuttavia mia madre era persuasa che parlasse sempre di sciocchezze e così anche mio padre Alberto è un personaggio così futile, diceva mio padre, metterlo dentro, lui che è la futilità in persona Si ricominciò a parlare del dottor Veratti e di Margherita Mio padre però Margherita non voleva sentirla nominare Figurati se vado da Margherita, non ci vado, non mi sogno neanche Questa Margherita aveva scritto anni prima una biografia di Mussolini E a mio padre il fatto che ci fosse tra le sue cugine una biografa di Mussolini sembrava inaudito Magari non vuol nemmeno ricevermi, figurati se vado da Margherita a mendicar piaceri Mio padre andò a Roma, in questura, per sentire notizie E mancando assolutamente di ogni senso di diplomazia e tuonando sempre con la sua voce forte e profonda Non credo riuscisse a ottenere gran cosa né quanto a colloqui né quanto a informazioni Era stato ricevuto da uno che gli aveva detto di chiamarsi De Stefani E mio padre, che sbagliava sempre i nomi, parlandone poi con mia madre lo chiamava Di Stefano Le descrisse come era fatto questo Di Stefano Mia madre disse, ma quello non è De Stefani, Beppino, quello è Anchise Ci sono stata anch'io l'anno scorso Ma che? Ma che Anchise? Mi ha detto di chiamarsi Di Stefano Non può avermi dato generalità false Su Di Stefano e Anchise ogni volta mio padre e mia madre litigavano E mio padre continuò a chiamarlo Di Stefano Ben che forse, senza nessun dubbio possibile, a quanto diceva mia madre fosse Anchise Alberto, da Roma, scriveva che gli dispiaceva di non poter visitare la città Difatti lui Roma l'aveva vista solo per mezz'ora, all'età di tre anni Una volta scrisse che si era lavato i capelli con latte E dopo i suoi capelli puzzavano e tutta la cella puzzava Il direttore delle carceri fermò quella lettera E gli fece sapere che scrivesse nelle sue lettere meno sciocchezze Alberto fu mandato al confino, in un paese chiamato Ferrandina, in Lucania Quanto a Giua e Vittorio furono processati e presero 15 anni per uno Mio padre diceva, se Mario tornasse in Italia, si prenderebbe 15 anni, 20 anni Mario ora scriveva da Parigi, nella sua calligrafia minuscola e illegibile Lettere brevi e concise che i miei genitori stentavano a decifrare Andarono a trovarlo Mario viveva a Parigi in una soffitta Indossava ancora quei panni che portava quando si era buttato nell'acqua a Ponte Teresa Ed erano stinti e frusti Mia madre voleva che si comprasse un vestito Ma lui rifiutò di lasciare quegli abiti stinti Chiese subito notizie di Sion Segre e di Ginzburg Che erano ancora in carcere Ed di Ginzburg parlava con stima e tuttavia come di persona lontana Che il suo pensiero e il suo affetto non avevano abbandonato Ma avevano tuttavia un poco lasciato in disparte E quanto alla sua propria avventura e fuga Sembrava averle dimenticate del tutto Si faceva da sé il bucato Non aveva che due camice logore E le lavava con grande cura Con l'attenzione meticolosa che usava un tempo Nel maneggiare e riporre dentro ai cassetti la sua biancheria di seta Spazzava da sé la sua soffitta con meticolosa attenzione Era sempre ben lavato, ben sbarbato, lindo Anche nei suoi panni logori E sembrava più che mai, disse mia madre, un cinese Aveva un gatto C'era nella soffitta in un angolo la cassettina con la segatura Era un gatto molto pulito, disse Mario Non faceva mai la cacca per terra Aveva, disse mio padre Una fissazione con quel gatto Si alzava presto al mattino per andare a comperargli il latte Mio padre, come mia nonna, non poteva soffrire ai gatti E anche mia madre non amava molto i gatti Preferiva i cani Disse mia madre Perché invece non ti tieni un cane? Ma che cane, urlò mio padre Ci mancherebbe altro che tenesse un cane Mario a Parigi aveva rotto con i gruppi di giustizia e libertà Li aveva frequentati per un periodo E collaborava al loro giornale Ma poi aveva visto che non gli piacevano tanto Mario era quello che da piccolo Aveva fatto la poesia sui ragazzi tosi con i quali non gli piaceva giocare E quando arrivano i ragazzi tosi tutti antipatici, tutti noiosi Era la sua poesia Ora, per lui i ragazzi tosi erano i gruppi di giustizia e libertà Tutto quello che dicevano, pensavano e scrivevano lo indispettiva Non faceva che criticarli E diceva che tra i lazzi sorbi non si conviene maturi il dolce fico Il dolce fico era lui e i lazzi sorbi erano quelli di giustizia e libertà È proprio vero, diceva, è proprio così Che tra i lazzi sorbi non si conviene maturi il dolce fico Lo diceva ridendo e carezzandosi le mascelle Così come un tempo diceva il baco del calo del malo Si era messo a leggere Dante Aveva scoperto che era bellissimo Si era messo anche a studiare il greco e a leggere Erodoto e Omero Invece non poteva soffrire Pascoli né Carducci Carducci poi lo mandava in bestia Era monarchico, diceva Era prima repubblicano e poi è diventato monarchico Perché si è innamorato di quella scema della regina Margherita E pensare che è dello stesso tempo di Baudelaire Dello stesso secolo Leopardi sì che era un grande poeta I soli poeti moderni sono Leopardi e Baudelaire È ridicolo che nelle scuole italiane si studi ancora Carducci Andarono mio padre e mia madre a vedere il Louvre Mario chiese se avevano visto Poussin Poussin loro non l'avevano guardato Avevano guardato tante altre cose Come? Disse Mario Non avete visto Poussin? Allora era inutile andare a Louvre L'unica cosa che vale la pena di vedere a Louvre è Poussin Io questo Poussin è la prima volta che ne sento parlare Disse mia madre Mario aveva fatto amicizia a Parigi con un certo Cafi Non parlava che di lui Nuovo astro che sorge Disse mio padre Cafi era mezzo russo e mezzo italiano Emigrato a Parigi da molti anni Poverissimo e senza salute Cafi aveva riempito fiumi di fogli e li dava da leggere agli amici Ma non si curava di farli stampare Diceva che quando uno ha scritto una cosa non occorre stamparla Averla scritta e leggerla agli amici basta Non c'è nessun bisogno che resti per i posteri Perché i posteri non contano nulla Cosa ci fosse scritto su quei fogli Mario non lo spiegava bene Tutto c'era scritto Caffi non mangiava, viveva di niente, viveva di un mandarino E i suoi vestiti erano tutti a pezzi Le scarpe sfondate Si aveva un po' di denaro Comprava allora cibi raffinati e champagne Che intollerante quel Mario Diceva poi mio padre a mia madre Critica a tutti, non gli va bene nessuno Solo questo Cafi Sembra che abbia scoperto lui Che Carducci è noioso Io lo sapevo da un pezzo Disse mia madre Poi erano offesi mio padre e mia madre Dal fatto che Mario sembrasse non avere nessuna nostalgia dell'Italia Era innamorato della Francia e di Parigi Mischiava a suo parlare continuamente parole francesi Dell'Italia parlava incurvando le labbra con profondo disprezzo Mio padre e mia madre non erano mai stati nazionalisti Odiavano anzi il nazionalismo in tutte le sue forme Ma quel disprezzo dell'Italia sembrava comprendere loro E tutti noi e le nostre abitudini E tutta la nostra vita Poi a mio padre dispiaceva che Mario avesse rotto i rapporti Con i gruppi di giustizia e libertà Il capo dei gruppi di giustizia e libertà Era Carlo Rosselli E Rosselli quando Mario era arrivato a Parigi Gli aveva dato del denaro e l'aveva ospitato Mio padre e mia madre conoscevano i Rosselli da molti anni Ed erano amici della madre La signora Amelia che stava a Firenze Guai a te se fai qualche sgarbo a Rosselli Disse a Mario mio padre Mario aveva oltre a Caffi due altri amici Uno era Renzo Giua Il figlio di quel Giua che era in carcere Un ragazzo pallido con gli occhi accesi Col ciuffo sulla fronte Che era scappato dall'Italia da solo attraversando le montagne L'altro era Chiaromonte Che mia madre aveva conosciuto anni prima in casa della Paola D'estate a Forte dei Marmi Chiaromonte era grosso Tarchiato con i riccioli neri Tutte e due questi amici di Mario Erano in rotta con giustizia e libertà E tutte e due erano amici di Caffi E passavano le giornate ad ascoltarlo Quando leggeva coi suoi fogli scritti a matita E che non sarebbero mai diventati dei libri Perché lui i libri stampati li disprezzava Chiaromonte aveva una moglie molto malata Ed era molto povero Tuttavia aiutava Caffi quando poteva Anche Mario lo aiutava Vivevano così in stretta amicizia Dividendosi il poco che avevano E senza appoggiarsi a nessun gruppo Senza fare progetti per il futuro Perché non c'era nessun futuro possibile Probabilmente sarebbe scoppiata la guerra E l'avrebbero vinta gli stupidi Perché gli stupidi, Mario diceva Vincevano sempre Quel Caffi, disse mio padre e mia madre Deve essere un anarchico Anche Mario è un anarchico In fondo è sempre stato un anarchico Dopo Parigi andarono mio padre e mia madre A Bruxelles dove c'era un congresso di biologia Là trovarono Terni e altri amici di mio padre E i suoi allievi e assistenti E mio padre si sentì sollevato Perché la compagnia di Mario lo stancava Da sempre torto, diceva Di Mario Appena apro bocca mi da torto A mio padre piaceva molto fare quei viaggi Ogni tanto quando c'erano congressi Gli piaceva ritrovarsi con i biologi Discutere grattandosi la testa e la schiena Tirarsi dietro mia madre in gran furia Senza mai permettere di fermarsi Nelle gallerie e nei musei Gli piaceva anche soggiornare negli alberghi Soltanto lui si svegliava sempre Molto presto al mattino Ed era svegliandosi sempre affamato Finché non aveva fatto colazione Era di umore feroce Girava agitato per la stanza Guardando fuori Spiando le prime luci dell'alba E quando erano finalmente alle cinque Si attaccava al telefono E ordinava urlando la colazione Deux tés, deux tés complet Avec de l'hoshode Si scordavano in genere di portargli l'hoshode O di portargli la marmellata Essendo i camerieri a quell'ora ancora assonnati Finalmente quando aveva ottenuto Tutto divorava la sua colazione Marmellata e brioche E poi faceva alzare mia madre Lidia, andiamo, è tardi Andiamo a visitare la città Che asino quel Mario Diceva ogni tanto È sempre stato un asino È sempre stato un intollerante Mi dispiace se fa qualche sgarbo a Rosselli Sempre con quel Cafi Cafi, Cafi Diceva mia madre Quando erano di nuovo a casa E raccontando di Mario alla Paola e a me Diceva con Cafi Come un tempo diceva con Paglietta Lagnandosi di Alberto E chiedeva alla Paola di Poussen Ma è davvero tanto bello questo Poussen? Anche la Paola andò a trovare Mario E litigarono Non si piacevano più Non facevano più ora insieme Il gioco dei minerali e dei vegetali Non erano più d'accordo su niente Su ogni cosa avevano un'opinione diversa La Paola a Parigi si comprò un vestito Mario l'aveva sempre trovata elegante Aveva sempre lodato i suoi vestiti Il suo gusto E tra loro due era in genere la Paola Dar giudizi e Mario darle ragione Quel vestito che la Paola compriò a Parigi A Mario non piacque Le disse che sembrava con quel vestito La moglie di un prefetto La Paola restò molto offesa Anche Chiaromonte Col quale usava incontrarsi in passato In villeggiatura al mare A Forte dei Marmi Adesso non le andava più Non riconosceva quel Chiaromonte Che un tempo usava venire A farle visita al mare Remare, nuotare Corteggiare le sue amiche Scherzare su tutto Andare la sera A ballare alla capannina In quel nuovo personaggio Di emigrato politico Senza denari Con la moglie malata E tanto amico di Cafi Mario le disse che lei Era una borghese Sì Sono una borghese Disse la Paola E non me ne importa niente Andò a vedere la tomba di Proust Lui Mario Non c'era mai andato Non gliene importava più niente Di Proust Raccontò poi la Paola Mia madre al suo ritorno Non se ne ricorda nemmeno Non gli piace più Gli piace solo erodoto Aveva comperato a Mario Un bellissimo impermeabile Vedendo che era senza E Mario immediatamente L'aveva regalato a Cafi Perché diceva che non poteva Cafi bagnarsi quando pioveva Essendo malato di cuore Cafi 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 Diceva anche la Paola disgustata Ed era d'accordo con mio padre Che Mario aveva fatto malissimo Ad allontanarsi dal gruppo di Rosselli E diceva che erano Mario e Chiaromonte A Parigi Due isolati E senza più nessun rapporto Con la realtà Alberto era tornato dal confino Aveva preso la laurea E si era sposato Contro ogni previsione di mio padre Diventò un medico E si mise a curare la gente Aveva ora uno studio Si arrabbiava con Miranda Sua moglie Se lo studio non era in ordine E se c'erano giornali in giro Si arrabbiava se non c'erano portacenere Perché lui fumava Sempre una sigaretta dietro l'altra E ora non buttava più le cicche per terra Venivano i malati E lui li esaminava E intanto gli raccontavano i fatti loro Lui stava a sentire Perché amava i fatti della gente Poi andava in camice bianco E con lo stetoscopio penzolante al collo Nella stanza vicina Là c'era Miranda Buttata su un divano Con la borsa dell'acqua calda Ravviluppata in un pleide Perché era molto freddolosa e pigra E lui si faceva fare un caffè Era sempre irrequieto Come era stato da ragazzo E beveva continuamente dei caffè Fumava continuamente A sorsate Senza respirare Sempre come se bevesse la sigaretta Venivano amici a vederlo E lui Gli misurava la pressione E gli regalava campioni di medicinali Trovava in tutti malattie Solo in sua moglie Non ne trovava nessuna Lei gli diceva Dammi un ricostituente Devo essere malata Ho sempre mal di testa Mi sento stanca E lui allora diceva Non sei malata Soltanto sei fatta di un materiale Di seconda qualità Miranda era piccola Magra e bionda Con gli occhi celesti Usava stare molte ore in casa Con una vestaglia di Alberto Era avviluppata nel pleide Diceva Quasi quasi vado a ospedaletti Da Elena Sognava sempre di partire Per ospedaletti Dove Elena Sua sorella Passava i mesi invernali Sua sorella Bionda e simile a lei Ma un poco più energica Era in quel momento A ospedaletti Al sole Su una sdraia Con gli occhiali neri E con un pleide sulle gambe O forse giocava a bridge Erano Miranda e sua sorella Bravissime a giocare a bridge Avevano vinto dei tornei Miranda aveva la casa Piena di portacenere Che aveva vinto in quei tornei Miranda quando giocava a bridge Si scuteva dal suo torpore Faceva una faccia maliziosa E ilare Chinando sulle carte Il piccolo naso ricurvo E le brillavano gli occhi Tuttavia Raramente riusciva a separarsi Dalla sua poltrona e dal pleide Verso sera si alzava Andava in cucina E guardava dentro a una pentola Dove c'era a cuocere un pollo Alberto diceva Ma perché in questa casa Si mangia sempre pollolesso Alberto anche lui giocava a bridge Soltanto lui perdeva sempre Miranda sapeva tutto sulla borsa Essendo suo padre un agente di cambio Diceva a mia madre Sai che forse vendo le mie incet E le diceva Tu dovresti vendere le tue immobiliari Cosa aspetti a vendere le immobiliari Mia madre andava da mio padre Diceva Bisogna vendere le immobiliari L'ha detto Miranda Mio padre diceva Miranda Cosa vuoi che sappia Miranda Poi però quando vedeva Miranda Diceva Tu che te ne intendi di borsa Credi davvero che farei bene A vendere le immobiliari Diceva poi a mia madre Che impiastro quella Miranda Ha sempre mal di testa Però se ne intende di borsa Ha molto fiuto per gli affari Mio padre Quando Alberto aveva annunciato Che si sposava Aveva fatto una gran sfuriata Poi però si era rassegnato Ma diceva Svegliandosi nella notte Come faranno che non hanno un soldo E Miranda è un impiastro Non avevano infatti molti soldi Ma poi Alberto cominciò a guadagnare Venivano da lui i donnette E si facevano visitare E gli raccontavano i loro fastidi Lui stava a sentire Con acuto interesse Era dotato di curiosità E di pazienza E amava nella gente I fastidi e le malattie Ormai non leggeva Che riviste mediche Non leggeva più I romanzi di Pitti Grilli Li aveva già letti tutti E Pitti Grilli Non ne aveva scritti di nuovi Essendo scomparso E nessuno sapeva dove fosse Alberto non andava più A passeggiare Sul corso Re Umberto Il suo amico Vittorio era in carcere E lui non ne aveva Che rare notizie Quando i genitori di Vittorio Avevano la bronchite E lo mandavano a chiamare Alberto si faceva fare i vestiti Da un sarto Che si chiamava Vittorio Foix Alberto diceva Mentre il sarto Gli misurava il vestito Io mi servo da loro per il nome E il sarto compiaciuto ringraziava Difatti anche Vittorio Si chiamava Foix Come quel sarto Alberto Diceva Miranda Sempre bronchiti Sempre malattie stupide Mai che mi tochi curare Qualche bella malattia strana Un po' complicata Un po' strana Io mi stufo In fondo mi stufo Non mi diverto abbastanza Invece a fare il medico Si divertiva Non voleva però confessarlo Mia madre diceva Alberto ha una gran passione Per la medicina Diceva Voglio andare da Alberto A farmi visitare Oggi ho un po' di mal di stomaco E mio padre diceva Ma che Cosa vuoi che sappia Quel salame di Alberto Diceva Hai mal di stomaco Perché ieri hai mangiato troppo Prendi una pillola Ti do io una pillola Mia madre ogni giorno Passava da Alberto Che abitava di casa Vicino a loro Trovava Miranda Sulla poltrona Alberto usciva Un momento dal suo studio In camice Con lo stetoscopio sul petto E si scaldava Al termosifone Avevano Lui e mia madre Lo stesso vizio Di star sempre attaccati Ai termosifoni Miranda Se ne stava ravviluppata Nei plaid Mia madre le diceva Muoviti Lavati la faccia Con l'acqua fresca Andiamo a spasso Ti porto al cinematografo E Miranda diceva Non posso Devo restare a casa Aspetto mia cugina E poi ho troppo mal di testa Alberto allora diceva Miranda manca di vita È pigra È fatta di un materiale Di seconda qualità Miranda aspettava sempre Le sue cugine Ne aveva tante Alberto diceva Sono stufo Di curare le tue cugine E diceva Che città noiosa Torino Come ci si annoia Non succede mai niente Almeno una volta Ci arrestavano Ora non ci arrestano più Ci hanno dimenticati Mi sento dimenticato Lasciato nell'ombra La Paola Era venuta Anche lei A stare a Torino Stava in collina In una grande casa bianca Con una terrazza circolare Che guardava sul Po La Paola Amava il Po Le strade La collina di Torino E i viali del Valentino Dove un tempo Usava passeggiare Col giovane piccolo Ne aveva avuta Sempre una grande nostalgia Ma ora Anche lei a Torino Sembrava diventata Più grigia Più noiosa Più triste Tanta gente Tanti amici Erano lontano In carcere La Paola Non riconosceva Le strade Della sua giovinezza Quando aveva pochi vestiti E leggeva Proust Adesso aveva molti vestiti Se li faceva Nelle sartorie Ma faceva venire In casa la Tersilla Anche lei E se la disputavano Lei e mia madre La Paola diceva Che la Tersilla Le dava un senso Di sicurezza Le dava il senso Della continuità Della vita Invitava a pranzo A volte Alberto E Miranda E Sion Segre Che era tornato Dal carcere Sion Segre Aveva una sorella Ilda Che stava di solito Col marito E i figli In Palestina Ma veniva a Torino Di tanto in tanto La Paola E questa Ilda Avevano fatto amicizia Ilda era bella Alta Bionda E andavano Lei e la Paola Con passi lunghi A spasso Per la città I figli di Ilda Si chiamavano Ben E Ariel E andavano A scuola A Gerusalemme Ilda a Gerusalemme Faceva una vita austera E parlava soltanto Di problemi ebraici Ma quando veniva a Torino A stare un po' Dal fratello Le piaceva parlare Anche di vestiti E andare a spasso Mia madre Delle amiche Della Paola Era sempre un po' Gelosa E quando la Paola Aveva una nuova amica Lei diventava Di cattivo umore Sentendosi messa In disparte Si alzava allora Al mattino Con un viso grigio Con le palpebre Tutte pestate E diceva O la catramonaccia Quell'insieme Di tetragine E di senso Di solitudine Mescolato anche di solito A un'indigestione Mia madre lo chiamava La catramonaccia Con la catramonaccia Stava rintanata in salotto E aveva freddo Si avviluppava Negli scialli di lana E pensava Che la Paola Non le voleva più bene Non veniva a trovarla E andava con le sue amiche A spasso Mi stufo Diceva mia madre Non mi diverto Sono stufa Non c'è niente di peggio Che stufarsi Se almeno mi venisse Qualche bella malattia A volte Le veniva l'influenza Era contenta Perché le sembrava L'influenza Una malattia più nobile Delle sue solite indigestioni Si misurava la febbre Aveva 37,4 Sai che sono malata? Diceva contenta mio padre Ho 37,4 37,4 È poco Diceva mio padre Io vado in laboratorio Anche con 39 Mia madre diceva Speriamo stasera Ma non aspettava la sera Si misurava tutti i minuti La febbre Sempre 37,4 Eppure Mi sento male La Paola era poi Dal canto suo Anche lei Gelosa delle amiche Di mia madre Non della Frances O della Paola Carrara Era gelosa Delle amiche giovani Quelle che mia madre Proteggeva e assisteva E che si tirava dietro A spasso E al cinematografo La Paola veniva a trovare Mia madre E le dicevano Che era uscita Con una di quelle sue Giovani amiche La Paola si arrabbiava Ma è sempre a spasso Non è mai a casa E poi Si arrabbiava la Paola Quando mia madre Dava La tersilla A una di quelle sue Amiche giovani Non gli dovevi dare La tersilla Le diceva Ne avevo bisogno io Per aggiustare I palto dei bambini La nostra mamma È troppo giovane Si lamentava a volte La Paola con me Io invece avrei voglia Di avere una mamma Vecchia Grasse Con tutti i capelli bianchi Una che stesse Sempre a casa Che ricamasse Delle tovaglie Come la mamma di Adriano Mi darebbe un tale Senso di sicurezza Avere una mamma Molto vecchia Tranquilla Una che non fosse Così gelosa Delle mie amiche Io la verrei a trovare E sarebbe lì Sempre serena Con ricamo Tutta vestita di nero E mi darebbe Dei buoni consigli Le diceva Se ti stufi tanto Perché non impari A ricamare Mia suocera ricama Passa le giornate Ricamando E mia madre diceva Ma la tua suocera È sorda Cosa ci posso fare io Se non sono sorda Come la tua suocera Io mi annoio A star sempre chiusa In caso Voglio di andare a spasso E diceva Figurati se imparo Il ricamo Non sono buona Non so punciottare Quando rammendo le calze Al papà Mi vengono fuori Dei brutti punciotti Che poi La Natalina Deve disfarli Aveva ripreso A studiare il russo Da sola E a sillabare Sul divano E quando veniva La Paola A trovarla Le diceva Le frasi Della grammatica Sillabando La Paola diceva Che noiosa Diceva Vado a vedere Vado a vedere come sta Il ferroviere Mia madre I bambini piccoli Le piacevano tutti Le piacevano anche Le balie Le balie Le ricordavano Il tempo che aveva Piccoli I suoi bambini Aveva avuto Una collezione Di balie Asciutte E da latte E le avevano Insegnato canzoni Cantava per la casa E diceva Questa qui era Della balia di Mario Questa della balia di Gino Il bambino di Gino Arturo Nato nell'anno Che mio padre Era stato arrestato Veniva in velleggiatura Con noi E veniva anche La sua balia Mia madre Quando c'era in casa Questa balia di Arturo Stava sempre a chiacchierare Con lei E mio padre diceva Sei sempre con le serve Prendi la scusa Di guardare i bambini E intatto Chiacchieri con le serve Ma una donna Così simpatica Beppino E' antifascista Ragiona Come noi Ti proibisco Di parlare Di politica Con le serve A mio padre Gli piaceva Dei suoi nipoti Soltanto Roberto Quando gli facevano Vedere un nuovo nipote Diceva Però è più bello Roberto Forse Essendo Roberto Il suo primo nipote Era anche il solo Che avesse guardato Con un po' di attenzione E' più bello E' più bello E' più bello